Sicuramente non è semplice trovarsi in questo tipo di situazione, anche perché oggi comunque sono delle tournée impegnative dove devi giocare ogni tre giorni e le nostre tre partite significa giocare contro United, Juventus e contro Paris Saint-Germain. Il club era molto chiaro per dire che è fuori dall'interno del progetto Inter e questo è la realtà in questo momento. È rientrato più nel progetto se c'è una differenza rispetto a… No, assolutamente. Rimane confermato tutto come era prima. Grazie. 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 Grazie.